Siamo Val di Pesa, Renato ci ha regalato le carote, parpulina e rosina e quindi troviamo sempre una bella solidarietà alle persone di questa Italia sconosciuta e adesso andiamo in comune che ci aspetta il sindaco e adesso loro vedono la frutta e quindi ci divertono, guarda che bello che sia Grazie Renato, buona vita Vice Corona